Attentato terroristico mercoledì poveriggio a Londra in Inghilterra. Un uomo di 40 anni di origine asiatica con un unserve ha falciato numerosi passanti sulle ponte di Westminster. Subito dopo ha abbandonato la macchina e si è diretto verso il cortile del Parlamento inglese armato di coltello tentando di entrarci. A quel punto due poliziotti in borghese sono inintervenuti e lo hanno ucciso. Scott Andiard parla apertamente di attentato terroristico. Secondo fonti ospedaliere una donna è morta e altre persone sono rimaste ferite, alcune in condizioni serie. Il primo ministro inglese Teresa May che si trovava all'interno del Parlamento è stata fatta in immediatamente evacuare. La seduta è stata sospesa. Nella zona dove si è verificato l'attentato ci sono i soccorsi ai superstiti. Ma al momento si cerca di capire attraverso le indagini come si sia potuto verificare una cosa del genere. Mimmo Siena, Speciale News.